Purtroppo abbiamo un problema relativo all'emergenza sul coronavirus quindi un mini lockdown sul territorio di Sant'Antonio al Parco. Ma tu abiti là? Ma sei scesa stamattina? Sì. Purtroppo abbiamo un problema relativo all'emergenza sul coronavirus perché abbiamo un contagiato gestore di una struttura ricettiva e dobbiamo attenzionare necessariamente il territorio. C'è una disposizione dell'ordinanza regionale che ha creato una piccola zona russa limitata circoscritta all'area di interesse laddove abbiamo ben 16 contagiati. Quindi un mini lockdown sul territorio di Sant'Antonio al Parco. L'area in ordinanza come lockdown è partita da stamattina alle 8. Quindi i barchi si sono stati creati stamattina perché abbiamo bisogno comunque di fare un briefing con le forze dell'ordine per vedere come coprire l'area di interesse. Ma tu abiti là? Ma sei scesa stamattina? Sì. E ora non rientri? Io sto provando con il mio marito perché si lavora quindi una volta in grado poi avrà tutti i miei all'altro quindi sta arrivando a fare un coltivo d'arri per salutare l'arrivo. Quindi preferite, diciamo, state cercando di capire se andare a dormire da qualche altra parte. Grazie. Ciao. 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 Ciao.